L'azienda è nata dieci anni fa, adesso fatturiamo 30 miliardi, ho 40 dipendenti, molti progetti. Voglio un sistema informatico aperto, che parli Unix. Voglio che sia espandibile, che sia personalizzato per le mie esigenze, che creda nel futuro. E poi voglio che chi mi realizza la soluzione sia un vero partner. Linea di sistemi Olivetti LSX e la rete di agenti e system partner. Specialisti in soluzioni. Specialisti in soluzioni.